Abbiamo qui il direttore sportivo del Seregno Beppe Piscitelli. Beppe, una sconfitta 7-2 abbastanza importante, alla vigilia non si pensava a una sconfitta così dura, diciamo. Il risultato parla da sé, neanche noi ci attendevamo una debacle di questo livello. È anche vero che la partita si è messa subito male, e poi la differenza tecnica con loro in vantaggio di 4 gol dopo pochi minuti ha fatto la differenza. Non c'è mai stata discussione, ma non ci abbattiamo, andiamo avanti come stiamo facendo dall'inizio dell'anno e verranno tempi migliori senz'altro. Perfetto.